Io volevo mettere invece l'uomo al centro per un mezzogiorno umanitario di riscatto e dignità. Mi interessava cambiare le condizioni materiali della mia gente. Era chiusa in questa frase la vita per il socialismo umanitario del senatore Domenico Pittella, padre dell'euro parlamentare Gianni e del presidente della regione Marcello, raccontata in un libro, Autobiografia, presentato a Lauria. Il libro, dai toni vividi e lucidi, racconta le sue vicende personali che si intrecciano con uno spaccato di storia italiana, gli anni di piombo, le stragi, le leggi di cui Pittella stesso fu promotore e firmatario. Il senatore racconta il suo impegno per il mezzogiorno e per la regione, quella che definisce il sud al cubo, parlando di rivoluzione e di riformismo e tracciando un quadro quanto mai attuale che richiama i corsi e ricorsi storici di una mezzogiornificazione del territorio della sua criticità. E poi, andando avanti, il senatore racconta dei suoi anni più difficili, legati alla vicenda giudiziaria e riscattati, ha raccontato ieri Domenico Pittella, dall'impegno politico dei figli. I punti salienti sono stati ripercorsi dallo stesso autore, che ne ha parlato con il giornalista Dario Carella, con Salvo Andò e Giuseppe Pisauro, dinanzi ad una sala aggrimita e in rigoroso silenzio, ad ascoltare le parole di un uomo che, lontano dai giudizi che solo la storia consegna, ha rappresentato un pezzo di vita politica, sociale e culturale della Basilicata e del Paese.